Due nuove spiagge finalmente sono a disposizione dei bagnanti. Un progetto importante perché riqualifica una zona poco conosciuta ai verbanesi, centrale di entrata e che si unisce al progetto della pista ciclopedonale, quindi con una grande valenza turistica. Il finanziamento ricevuto nel 2018, sono partiti lavori un anno fa e quindi oggi noi abbiamo spiaggia ai tre ponti con parcheggio, accesso a disabili e l'altra spiaggia a buon rimedio, l'ascensore arriverà la prossima settimana, che si completano. Sono lavori un po' in progressione, non ancora ultimati, però ci pareva doveroso in questa bellissima estate offrire un'occasione maggiore per i residenti e anche i turisti, pur con le limitazioni legate al traffico. I lavori vanno fatti, saranno conclusi a breve e quindi in prospettiva della prossima stagione noi potremo offrire un sistema di spiagge pubbliche attrezzate di grande valenza paesaggistica. E quindi questo potrebbe aiutare Verbania a concorrere per il riconoscimento di Bandiera Blu. Sicuramente agiremo sul piano del trasporto e della accessibilità di questo luogo, che è presidiato con un sistema di sicurezza e anche sorveglianza e custodia da dei bagnini. Per cui con questo è anche un augurio di buon estate dopo mesi così difficili per i verbanesi.